In questi giorni proteggersi nei migliori dei modi un dovere per se stessi e per gli altri. Quanti di voi hanno la sicurezza che una volta fatte le pulizie a casa o in ufficio o in qualsiasi ambiente di lavoro la qualità dell'igiene sia quell'ottimale per mettervi al riparo da batteri e virus? Nessuno! So quanta fatica fate per far sì che questi ambienti siano puliti e accoglienti e privi di contaminazioni, ma purtroppo non è così. Se andassimo a vedere con un microscopio cosa è rimasto ancora sulle superfici, sui tessuti dopo i vostri sforzi, rimarresse sorpresi perché la quantità di batteri e virus presenti su ogni tipo di superficie è ancora notevole e mette in pericolo la vostra salute. Per questo oggi vi presentiamo DisinfectoMed, il sistema di sanificazione che elimina in modo totale ed efficace batteri e virus da ogni superficie dei vostri ambienti e per approfittare di questa forza sanificatrice non dovrete far nessuna fatica, nessuno sforzo. Farete come sempre le pulizie di casa, ma con DisinfectoMed avrete un aiuto naturale per contrastare allergeni, polvere, cattivi odori, batteri e virus. DisinfectoMed è un dispositivo facile da usare che utilizza la Cloramina T, che è un disinfettante biologico naturale che nebulizzato in particelle sotto i 5 micron si deposita ovunque, andando a depositarsi anche negli angoli più nascosti. Quelli che non riuscireste mai a raggiungere durante le vostre pulizie. Inoltre ci tengo a ricordarvi che una sanificazione a secco per cui il prodotto non bagna le superfici e i tessuti, non li rovina. Chiamate adesso e prenotate la visita di un nostro consulente. Proteggete la vostra salute con un sistema efficace per eliminare ogni pericolo per voi e la vostra famiglia. Insieme all'apparecchio vi forniremo il barattolo di Cloramina T, disponibile in due formati, a seconda della grandezza degli ambienti da sanificare. Villette, appartamenti, uffici, sale giochi, mesi di trasporto come taxi, pulmini e camion. Tutte le attività svolte in locali dove c'è l'affluenza di pubblico come negozi, alberghi, bar e ristoranti, ma anche cascine per sanificare perfettamente gli ambienti a rientro dal lavoro con gli animali. Non c'è luogo che non possa essere sanificato con i dispositivi DisinfectoMed, che abbinati al disinfettante naturale Cloramina T vi faranno ottenere ottimi risultati. I test di laboratorio effettuati ne confermano l'efficacia, laddove altre apparecchiature o disinfettanti hanno conseguito scarsi risultati. DisinfectoMed sono apparecchiature studiate, testate, prodotte e brevettate e si basano sulla generazione di nebbia secca capace di disinfettare e sanificare in tempi brevi un ambiente chiuso, utilizzando un disinfettante biologico e naturale ad ampio spettrobiocida. La vostra salute deve essere protetta nel migliore dei modi. Chiamate adesso e prenotate la visita di un nostro consulente. Con la globalizzazione di merci e persone, i batteri e i virus attraversano mari e continenti. È sempre più importante quindi avere armi efficaci per difendersi da questi nemici spesso invincibili. Le normali pulizie non garantiscono la disinfezione completa dai locali, ma il rimedio adesso c'è. DisinfectoMed, le apparecchiature per una completa e profonda sanificazione. Basta inserire la cloramina T nell'apposito cassetto dell'apparecchiatura, metterla in funzione, uscire dalla stanza e lasciare che la cloramina T si depositi in ogni angolo dei locali, su ogni tipo di superficie, compreso l'interno dei rubinetti, delle prese d'aria e dei condizionatori. In pochi minuti avrete l'aria e l'ambiente completamente sanificati per diversi giorni. Il nostro consiglio è di sanificare almeno due volte al mese. Con l'accensione il dispositivo immette nell'aria particelle disinfettanti in grado di attrarre le membrane cellulari batteriche e virali per demolirle e dissolverle, eliminando batteri, virus, funghi e spore. E attenzione, vi forniamo noi il barattolo di cloramina T, sia quello grande che quello piccolo. Ricordate che lo trovate solo da noi. La nostra vita si svolge prevalentemente in ambienti chiusi e l'aria di questi ambienti rappresenta uno dei veicoli più comuni per la diffusione della flora batterica pericolosa per l'uomo. Negli ultimi anni è emerso che l'inquinamento degli ambienti chiusi è spesso superiore all'inquinamento esterno. Come possiamo ridurre la contaminazione biologica negli ambienti chiusi? La soluzione c'è e si chiama disinfectomed, le apparecchiature per una completa e profonda sanificazione. Immettono nell'aria, ad alta velocità, microparticelle di disinfettante biologico naturale dalle dimensioni massime di 5-10 micron non bagnanti. Questa azione favorisce la demolizione e dissoluzione di batteri e virus. Un'azione disinfettante che agisce con efficacia su tutte le superfici esposte ed eliminando anche i cattivi odori. E dopo la sanificazione è consigliato areare l'ambiente prima di soggiornarvi. Non c'è luogo che non possa essere sanificato con i dispositivi disinfectomed che abbinati al disinfettante biologico naturale cloramina T vi faranno ottenere ottimi risultati. Pensate una riduzione batterica fino al 99%. Ricordate la vostra salute deve essere protetta nel migliore dei modi. Chiamate adesso e prenotate la visita di un nostro consulente per scoprire non soltanto un modo efficace per sanificare ed igienizzare i vostri ambienti ma anche per risparmiare sui costi che normalmente sostenete per difendervi da batteri e virus. Chiamate adesso Disinfectomed, la tecnologia all'avanguardia per il benessere di tutta la famiglia.